Grazie Presidente. Perché abolire il JOVAT? Perché i lavoratori hanno dei diritti. Per quale motivo reintrodurre l'articolo 18? Perché i lavoratori hanno dei diritti, non come succede in tutte le aziende d'Italia, dove adesso esiste il lavoro precario del precariato. È incredibile, avete introdotto un lavoro precariato di secondo livello, dovete fare un elevamento al quadrato, è veramente qualcosa di inaudito, ma non ci vuole un ingegnere per dirlo. Non ci vuole un ingegnere per dirlo. Cioè ora le aziende italiane danno appalto ad aziende estere che le vincono per eccesso di ribasso e le aziende italiane licenziano i lavoratori italiani che non hanno neanche un reddito minimo garantito di cittadinanza, chiamatelo come volete, anche se in Europa stanno già parlando di reddito universale. Il reddito universale è qui, neanche questo siete capaci di fare. Mandate veramente a fuori.